C'è stato l'interesse finché l'ISIS era un problema di cui si parlava in casa nostra, perché in Europa era nell'agenda dei governi europei, in qualche modo tutta la questione kurda era qualcosa che ci interessava. Come questa attenzione è avvenuta meno, oppure qualsiasi tipo di interesse per la lotta dei kurdi è completamente scomparso. La casa editrice aveva bisogno di ristamparlo perché erano esaurite le copie e ci siamo resi conto che l'idea stessa di fare quel libro era per cercare di informare in quel momento là su quello che stava succedendo. Però quel libro è uscito nel 2016, sono passati 4 anni, sono cambiate tantissime cose e ristampare un libro paro paro esattamente con le stesse cose dentro, rischiava di essere una testimonianza del passato ma che non avesse più nessun valore informativo sull'oggi. Quindi ci siamo detti che tanto valeva provare a aggiornarlo un minimo, in realtà poco nel senso aggiungendo quelle che sono state le pagine che avevo disegnato per Lorenzo Orsetti alla morte del combattente italiano in Siria che era andato a combattere contro l'ISIS e poi aggiungere una prefazione scritta che raccontasse un po' il contesto, che cosa era cambiato in modo che chi lo compra per la prima volta, riesce a capire un po' che cosa sta succedendo ora. Il quadro di questo momento sicuramente è peggio di quello con cui ci eravamo lasciati 4 anni fa, nel senso che da una parte l'ISIS è praticamente scomparso, però l'occupazione della Turchia nel nord della Siria con la sproporzione dei mezzi militari, la Turchia c'è il secondo esercio della NATO, usa sul campo delle bande jihadiste che sono analoghe a quelle di ISIS, quindi diciamo che questo momento qua di cui nessuno si sta occupando in verità è probabilmente il momento più drammatico per quella regione. C'è stato l'interesse finché l'ISIS era un problema di cui si parlava in casa nostra, perché in Europa era nell'agenda dei governi europei, in qualche modo tutta la questione kurda era qualcosa che ci interessava. Come questa attenzione è avvenuta meno, oppure qualsiasi tipo di interesse per la lotta dei kurdi è completamente scomparso. Io non penso che ci siano grossi complotti dietro, non penso che non se ne parli perché non vogliamo dare fastidio alla Turchia, perché poi penso che media, anche piuttosto liberi, tra virgolette, ci stanno in Italia, è semplicemente questa roba non interessa più, non ha più cliccabilità e quindi non se ne occupa più nessuno. In realtà era iniziata come un racconto della scelta che hanno fatto alcune persone qua in Italia di andare a combattere insieme ai kurdi e serviva a sostenere in particolare quelli che erano ritornati e che stavano aspettando una sentenza di sorveglianza speciale. Noi li consideriamo eroi da una parte, ma quando ritornano, se tornano vivi, invece li mettiamo sotto sorveglianza. Capitato esattamente nel momento in cui arrivava la notizia della scomparsa di Lorenzo, mi sembrava impossibile non parlarne, per farlo mi sembrava necessario parlare con la famiglia, con gli amici per capire che cosa si poteva, non si poteva raccontare, cosa volevano loro. E però invece nell'incontro con loro mi sono trovato una cosa che è stata così forte che poi si è mangiata tutto il resto della storia, è diventata la storia sulla sua vicenda perché nella sua drammaticità era anche molto bella, nel senso che parlava di una persona che qua aveva tutta una serie anche di difficoltà a trovare la sua posizione perché non si trovava con la società che abbiamo qua in occidente. E lì invece ha trovato anche nel, evidentemente in un teatro de guerra, quindi comunque di sicuro non in uno spazio sereno, però una serenità nei rapporti e nel tipo di costruzione di società che ci stava che paradossalmente trasmetteva quasi serenità anche a chi stava qua in Italia che li voleva bene, nel senso che anche loro lo vedevano avere finalmente trovato il suo posto. Questa cosa l'ho trovata molto bella, nel senso che è una storia che in realtà nel suo epilogo drammatico raccontava una storia di generosità, di sacrificio, di qualcosa che secondo me andava raccontato. Io non sono capace di prescindere dal filtro mio nel racconto degli eventi, quindi in qualche modo ci devo stare per forza perché se no mi sembra di far muovere delle marionette senza anima perché non conosco i sentimenti degli altri abbastanza quanto conosco i miei. Però al tempo stesso mi piacerebbe raccontare quello che ci è successo intorno, magari non nella pandemia che l'ho fatto con questi cartoni animati, l'ho fatto abbastanza, lo sanno affatti tutti eccetera, però ci sono tante altre cose che andrebbero raccontate e anche nel libro che sto facendo adesso che dovrebbe uscire intorno a novembre e così cerco di fare questa cosa, di raccontare un pezzo di questa città attraverso esperienze mie. Sicuramente ci sono stati con i cartoni animati un sacco dei nuovi lettori, ma dei nuovi non si chiamano più lettori, boh, dei nuovi spettatori, non so come si chiamano. Non ho idea perché poi con le librerie chiuse non ho idea se poi questa roba si traduce in gente che va a comprare i libri, di sicuro mi sono reso conto che la televisione ancora c'ha un potere gigantesco che noi non ci immaginiamo perché pensiamo che passa tutto da internet, ma una cosa che c'ha un passaggio in tv c'ha ancora un'esplosione enorme che non mi aspettavo proprio. In generale mi sembra che in mezzo a tante persone che poi che mi scrivono, tante persone carucce che ci stanno eccetera, si sta anche un po' ricrando quel fenomeno dell'inizio di un sacco di persone a cui fa ridere questa cosa specifica, ma poi sono in realtà incredibilmente lontani da me antropologicamente e per mille cose e quindi io sto già facendo il conto alla rovescia di quando buona parte di queste persone scoprirà per esempio che non voto Salvini e comincerà a scrivermi mi hai deluso tantissimo, sei amico dei barconi e dei scafisti e cose del genere, che era quello che già successe con i fumetti ma si erano scremati man mano e invece vedendo un po' i profili che mi sta scrivendo prevedo che questa roba tra poco comincerà la seconda ondata delle grandi delusioni. Grazie.